ascanio e beatrice torino 23 settembre 1913 via santo ottavio angolo santa giulia vera quel tempo e tuttora esiste una casa in stile liberti a tre piani e più sopra anche una soffitta minuscola quanto accogliente abitata da una maestrina di nome luisa occorrerebbe che scrivesi di lei e forse un giorno lo farò perché io so per certo quanto fu interessante la sua vita ma in questa essa rappresenta solamente un dolcissimo dettaglio in quella di ascanio e al contempo il doloroso strumento del risveglio di beatrice no no non supponete leggete leggete e comunque qualcosa di lei dirò intanto che fosse giovane parrebbe scontato e anche graziosa ma in più la sorte aveva concentrati in lei tutti gli attributi che rendono timidi e cauti la maggior parte degli uomini era indipendente in ogni aspetto della vita ed essendo l'unica figlia di una facoltosa famiglia borghese faceva la maestra compassione ma non certo per bisogno e pur giovanissima di fatto abitando da sola per una scelta di libertà godeva della vita come raramente accadeva alle donne in quei tempi severi quel giorno saltellando a due a due gli scalini di pietra della scala ottocentesca alle nove in punto di quell'autunno mite e profumato scese in strada felice e ansiosa di recarsi alla basilica di superga per rivivere il ricordo di un amore nella sua breve vita ne aveva avuti molti di amori alcuni turbolenti altri dolci e quieti spesso anche un poco torbidi eppure romantici tutti importanti per lei ma quello beh quello era stato il primo e da settimane rimandando sempre aspettava che un qualche raggio mattutino nello svegliarla incuneandosi a fatica fra i ricami e i merletti delle tendine dell'abbaino e sfiorasse il viso per dirle vai questo è il giorno giusto il lastricato umido di una pioggia recente la costrinse per evitare le pozzanghe le pacciamate di foglie raccolte da rivoli veloci in saltelli le giadri appariva come una giovane adolescente in amore anche l'abbigliamento scelto colorato e leggero era inadatto per la stagione come lo erano le giarrettiere rosa su calze finissime color carne perché le aveva indossate se luigi e lodovico quelli erano i suoi amori in quell'istante di vita erano lontani simili domande non possono pretendere risposte o almeno non quelle che potrebbe dare la ragione la mente delle donne si sa è uno scrigno misterioso un passo svelto e curioso prese dunque la prima carrozzella che trovò e di trotto si fece portare alla stazioncina della tramvia a dentiera con il bel nasino all'insù lesse un cartello sul quale vi era scritto che la cabinetta sarebbe partita anche per un solo passeggero al costo di 15 centesimi e lei vi salì con la stessa frenesia di una bimba alla sua prima uscita solitaria occorre spiegare cosa cercasse già in parte l'ho detto in ogni caso intendo specificarlo meglio luisa voleva semplicemente sedersi sul bordo di quella piccola fontana incastonata nella nicchia di pietra grigia sulla quale un tempo non troppo lontano era stato dolcemente rubato il primo bacio sentiva da tempo il bisogno di percepire su di sé il respiro di ascanio così senza gli impianti e già che lui era svanito per sempre già nella sua prima fanciullezza desiderava almeno evocarlo con la magia dei luoghi chissà perché sarà immaginata che quella sarebbe stata una passeggiata solitaria e invece trova la piazza affollata e ancora dietro di sé veniva gente in comitiva che sciocca pensò è domenica e allora un po imbronciata come un segugio sull'usta del selvatico si mise d'impegno a cercare la fontanella e nel farlo da cominciava a ricordare il sapore di quel bacio misto all'odore mascolino di ascanio chiuse gli occhi per meglio rubare al passato quel magico istante quando inconfondibile udì una voce luisa luisa per dio non ci posso credere era stato il desiderio di evocarlo no e chi può dirlo se ascanio era nuovamente a torino giunto da milano proprio in quel giorno per un giorno solo ascanio che strana coincidenza ero qui per caso aspettavo un amico e in quell'istante mentre il cuore esultava luisa balbettava bugie che lui nemmeno sentiva non era cambiato troppo beh un po sì ma solo il minimo necessario per mostrare che era diventato uomo se possibile ancora più bello morricciuto adesso muscoloso la barba fitta fitta di quelle che non permettono mai alla pelle di prendere il sole se non quando fosse appena rasata giungendo a disegnare arabeschi corvini sul torace villoso gli conferiva una virilità dolce e ferina ad un tempo ascanio la guardava incantato i suoi occhi azzurri al pari di un cielo limpido d'agosto la fissavano come un falco la preda senza vagli perché la sorpresa per quell'incontro improvviso non gli aveva dato il tempo di consegnare le emozioni al controllo della mente e soprattutto il modo di indossare quella tal maschera pertanto davanti a luisa sostava il desiderio allo stato puro e lei ne fu coinvolta il caso volle che tutto avvenisse proprio a ridosso di quella fontana che lei cercava e ancora non aveva vista tutti e due notarono all'istante la nicchia di quello struggimento antico e fu chiaro ad entrambi che avrebbero voluto assaporare quel bacio un'altra volta ancora ascanio si avvicinò e la trasse a sé con sorprendente vigore quasi la sollevò colmando in quel modo la distanza fra bocca e bocca per baciarla delicatamente la lingua discreta si insinuò appena in quella leggermente dischiusa di lei assaporandone l'alito profumato il mondo intorno a loro scomparve in un attimo e fra le sue braccia lei appariva come un dolce manichino abbandonato su un servo muto ascanio la strinse forte perché non ci sarebbe stato un domani per loro e poi le accarezzò i capelli e poi affronte e poi già non era più lì ubriaca di emozione luisa vacillò quando non si sentì più sorretta da quelle brazza forti alle quali avrebbe voluto appoggiarsi ancora un poco aprì dunque gli occhi per vedere intorno a sé gli sguardi complici di donne e uomini comuni bisognosi come lei di tenerezza sorrisero le parole non servivano già tutto dicevano per loro gli occhi lucidi luisa tornò subito alla tranvia ma passi lenti questa volta forse per compensare così la fretta con la quale il ricordo era stato vissuto ma non sciupato i suoi lunghi rizzoli si erano sciolti e un po la precedevano ma più spesso sottomessi ai capricci di quel venticello appena sorto e ancora incerto a quale direzione affidar le spire la seguivano fin sulla porta di casa dove sognante malinconica anche noi adesso la lasciamo come mai corri così ascanio volevo raggiungerti perché già mi mancavi cucciolo mi sembri turbato amore cos'è successo un ricordo una memoria emozioni giovanili nulla nulla alla fine beatrice arrossì vistosamente no ascanio molto invece non è bene sciupare i ricordi ancora non sapeva che avrebbe sofferto per quelli ascanio si sentì in colpa ma lei con un bacio già lo perdonava e allora confortato rivolto alla figlia disse vieni piccola non stare lì in palata c'è traffico qui potresti perderti la piccola carmen lo raggiunse corrucciata però diede la mano alla mamma rifiutando la sua guarda guarda com'è bella la basilica ma la bambina nemmeno lo ascoltava erano giorni che beatrice osservava la bambina con ansia anche la maestra si era accorta di un improvviso cambio d'umore in carmen la piccola rispondeva a monosillabi e per il resto passava il tempo seduta a fissare senza vederle le sue bambole sono preoccupata ascanio da quando siamo tornati non l'ho più vista sorridere lui però era già sulla porta in procinto di andare in ufficio le rispose distratto stasera cucciolo vedi bene che non ho tempo ne parliamo stasera ora devo proprio andare le amava infinitamente entrambe ma parte di quell'amore come spesso fanno gli uomini lo donava in cose a beatrice soltanto aspettava la direzione del cuore a cena vogliono osservare la piccola carmen con più attenzione e a quel punto anche ascanio non ebbe dubbi la bambina lo sfuggiva il bacetto avuto a pensarci era stato rubato capì dunque ad essere lui il problema la piccola infatti si addormentò fra le braccia della madre ma non lo volle accanto a sé nella mente di beatrice allora si addensarono immagini cupe fin troppo tenebrose perché negli occhi della figlia prima del sonno aveva intravisto una strana inquietudine ascanio appartato le osservava e si sentì colpevole senza sapere con certezza di cosa vieni ascanio dobbiamo parlare non aveva chiamato amore per tutta la sera analizzarono istante per istante quella breve vacanza fino a quando beatrice fissandolo negli occhi arrossì e sbiancò sostavano entrambi sul problema carmen ha visto qualcosa che l'ha turbata tu sai cosa possa essere certo che adesso lo immaginava per un attimo aveva temuto che anche lei beatrice lo avesse visto baciare luisa quella incredibile fuga nel passato era stata velocissima ma loro non erano troppo distanti ascanio non seppe rispondere per farlo avrebbe dovuto prima fare chiarezza dentro di sé ma ciò che era accaduto lo aveva rimosso con cura già quel pomeriggio quella forte emozione alla quale non era stato in grado di sottrarsi sapeva di conquista si era sentito un falco sulla colomba indifesa e orgoglioso della propria forza l'aveva agghermita senza aspettative come un fatto naturale semplicemente meraviglioso che solo un uomo poteva subito dimenticare quello struggimento romantico e sensuale per un amore passato la voglia formidabile di gustare un momento magico si poteva certo chiamare tradimento ma anche impulsività avventatezza oppure imperio legittimo dei sensi o mille altre cose tutte ragionevoli vedete voi io penso semplicemente amore quello che si è lasciato libero di essere si nutrirebbe solamente di simili istanti innumerevoli e meravigliosi in ogni caso adesso occorreva ripescare quell'emozione imbozzolata nel profondo dove lui l'aveva relegata fra i tanti pensieri inconfessabili per comprenderla e condividerla con beatrice l'amore della sua vita era stato solo un bacio ma sapeva bene che gli sarebbe stato impossibile minimizzare ascanio si diresse alla finestra distese le lunghe brazze e le appoggiò ai lati di essa quasi volesse sostenere la parete o tuffarsi all'esterno ma era solo gestualità necessaria per concedere tempo ai pensieri e fece bene perché così riuscì a comprendere che il vero problema non lo aveva con beatrice bensì con la bambina mai come in quel momento le parole erano importanti ma dovevano essere sincere beatrice dietro di lui aspettava silenziosa con il cuore gonfio pronta a ricevere dolore ascanio si girò lentamente e accennò di parlare voglio la verità amore qualsiasi cosa sia successa certo che sarebbe stato sincero perché aveva bisogno di aiuto è stato un momento di pazzia ma beatrice taceva tutto era successo in quei pochi istanti nei quali ascanio si era assentato in quella caratteristica piazzetta per assaporare un ricordo gli riusciva impossibile immaginare che qualcosa di grave potesse essere accaduto in così breve tempo però le parole di ascanio contraddicevano quella speranza una bolla temporale non saprei dire cosa mi sia successo lei era lì nello stesso posto io mi sono sentito come se avessi ancora 16 anni quindi quasi gemette beatrice le ho dato un bacio la piccola ti ha visto sì certo che ti ha visto disse senza attendere risposta beatrice ascanio mutolito rifletteva su come un momento magico potesse produrre effetti così nefasti ancora non sapevo che avresti lacerato il nostro amore quando ti dissi non è bene sciupare ricordi è stato solo un bacio balbettò senza convinzione ascanio ma beatrice non rispose solamente l'immagine della piccola carmen delusa dal padre occupava ora i suoi pensieri a noi penseremo dopo adesso vieni raccontami dobbiamo trovare una spiegazione per la bambina lei non deve perdere la stima che nutre per te e tu avrebbe voluto chiedere ascanio ma non lo fece maledicendo quella terribile imprudenza che ancora non riusciva a chiamare tradimento e forse infine non lo era nemmeno beatrice si sedette sul divano invitandola accanto a sé con un gesto gentile in lei non vi era traccia di rabbia e nemmeno delusione solo dolore quello rassegnato delle persone che non sanno cosa sia il rancore intuiva ciò che poteva essere successo e temeva che una parte del suo ascanio avesse seguito quel bacio ma respinse quel pensiero era una questione che doveva essere risolta dal cuore quella compì dunque un piccolo miracolo per sé stessa per ascanio per la meravigliosa coppia che erano stati fino a quel giorno si appoggiò a lui e gli sussurrò raccontami amore beatrice aveva scelto quello che voleva fosse il proprio futuro e ne aveva tracciato il cammino per sé per ascanio con due semplici parole e un gesto avrebbe potuto scegliere la strada del dolore invece preferì far soffrire l'orgoglio e per un attimo appena anzi non dire nulla un bacio in fondo è un gesto d'amore e carmen capirà ma questo penserò io tu non dare importanza alla cosa pazienta un pochino e amala come hai sempre fatto ma dalle un po' più del tuo tempo e noi io balbetto ascanio e noi cosa pensi forse che io possa rinunciare al nostro amore per un bacio quella notte però beatrice un po triste lo era stretta dalle forti braccia di ascanio che già dormiva rassicurato pensava che in fondo non si appartenevano se bastava il velo di un ricordo per e io pensò la notte era lunga e così ebbe modo anche lei di porsi domande scomode alle quali però con coraggio seppe dare le risposte giuste la loro vita sarebbe cambiata avrebbero percorso la via ancora per mano o abbracciati ma senza più catene aspirò profondamente l'odore maschio di ascanio si strinse a lui compenetrandolo e quasi dormì felice ora sapeva con certezza di non possedere tutto il cuore del suo amato ma in compenso si addormentò più leggera nel sapere che anche il suo adesso poteva palpitare libero grazie a tutti